Vorrei cominciare, adesso propriamente, dicendo due parole su quale è un po' l'obiettivo che mi sono posto su questa sera. Il titolo dell'intervento è l'attualità di Wittgenstein e la sua accessibilità. E quello che vorrei fare non è tanto di parlare dell'attualità di Wittgenstein e della sua accessibilità, ma vorrei parlare del modo in cui le due cose sono in relazione, e cioè il modo in cui l'accessibilità di Wittgenstein, la facilità con la quale si riesce a leggerlo e si riuscirà a leggerlo negli anni a venire, influenzerà la sua attualità. Diciamo che durante la prima di queste tre serate che ho tenuto mi sono in realtà profuso, forse troppo, su quali sono le ragioni filosofiche, storico-filosofiche, eccetera, dell'attualità di Wittgenstein. Stasera non riprenderemo granché di quei discorsi e in realtà purtroppo stasera parleremo anche un po' meno di quello che forse vi aspettate di filosofia. Però un po' ne parleremo, insomma, e dopodiché abbiamo tutta la sera per parlarne in modo ancora più dialogico, con una birra in mano. Però appunto mi interessa oggi focalizzarmi su aspetti di carattere forse più editoriale, tutto sommato, che estrettamente filosofico, per parlare appunto di accessibilità e attualità di un autore, e in questo caso evidentemente in particolare di Wittgenstein. Questa serata, di nuovo la quarta di una serie, la terza che tengo io, ha avuto occasione, ha trovato la sua occasione, nella collaborazione tra la Tigre di Carta e la Corsa dei Miracoli, e cioè diciamo le due entità che animano questo spazio fisico, con un'altra entità che ho fondato io e che sto portando avanti con un gruppo di persone, alcune delle quali sono qui stasera, che si chiama Ludwig Wittgenstein Project e che ha appunto come obiettivo quello di rendere Wittgenstein più accessibile online. Oggi ne parleremo più approfonditamente di quanto abbiamo fatto le volte scorse, quindi per adesso vi anticipo solo lo stesso necessario. Però appunto in realtà è necessario fin da subito dire che la ragione per cui chiudiamo una serie parlando proprio degli aspetti editoriali, della lettura di Wittgenstein, della filosofia di Wittgenstein, della sua ricezione per esempio, è che la nascita di questa serie di incontri è legata proprio a un progetto editoriale, appunto il Wittgenstein Project, per brevità, che si pone l'obiettivo di rendere disponibili online, in un sito web che è già online dal primo gennaio, idealmente tutte le opere di Wittgenstein già pubblicate in formato libro, poi andremo in queste distinzioni un pochino più avanti, con l'obiettivo precisamente di rendere quanto più facile possibile per chiunque leggere Wittgenstein. Vedremo per l'appunto un po' perché in primo luogo e come stiamo andando in questa direzione, però appunto spero anche che il discorso trascedda un po' i limiti del progetto in sé e vi trasmetta qualche idea interessante. Abbiamo due parti principali delle cose che vorrei dire. La prima, suona noiosissima, ma ve la presento così brutalmente, ha a che fare con il copyright e la seconda ha a che fare con mettere Wittgenstein online. Il motivo per cui la prima metà buona di questo intervento, peraltro spero abbastanza breve, Massimo, onoretta incluso quello che ho già detto, è sul copyright, questa prima parte, perché raramente si riflette a sufficienza, credo, sulla misura in cui le distruzioni legate al diritto d'autore limitano l'accessibilità, la ricezione e forse persino la fortuna dei testi nei decenni subito successivi alla morte dell'autore di quei testi stessi. Testi, ma in realtà potenzialmente il discorso vale anche per musica, immagini, eccetera, eccetera. Naturalmente oggi davvero ci focalizziamo sull'editoria e sulla lettura, perché altrimenti espanderemo il discorso troppo. Però ecco, c'è diciamo una componente molto materiale, legale ed economica della fortuna degli autori che va a braccetto con il concetto del copyright e con le sue applicazioni e proprio per il fatto che è qualcosa di cui spesso un po' ci si disinteressa, mi piacerebbe invece soffermarmi, anche perché vedremo, di nuovo, si collega strettamente con il discorso che poi vado a sviluppare sul progetto Wittgenstein e quindi è, diciamo, imprescindibile partire da qua. Ora, è un argomento che tutti noi, più o meno, credo, istintivamente troviamo noioso nel migliore dei casi e frustrante, fastidioso nel peggiore, perché da un lato è una tipica questione legale per cui non tutti sono naturalmente inclinati, io certamente non lo sono e che quindi lasciamo volentieri nello stesso, diciamo, recesso della nostra mente in cui lasciamo altri aspetti del diritto se non ne siamo per l'appunto appassionati. Dall'altro lato è complicato, rispetto forse anche alla media del diritto, il copyright a tutti e soprattutto ai profani dà l'impressione di essere una selva di norme contraddittorie, complicate, eccetera, eccetera. Per quello che posso dire io, lo è. Io non so se sono un esperto, però ho avuto tante occasioni in vita mia di sbattere la testa contro problemi di copyright, ne ho fatto ampia esperienza e è davvero complicato. Ora, è anche interessante. Non fosse altro che per, proprio per questa serie di, diciamo, inconsistenze, assurdità, caviglie, paradossi che si trovano quando si approfondisce un po' il discorso. Ora, se mi faccio prendere la mano, poi dopo vi racconto anche qualcuna di queste casistiche pazzesche e qualche aneddoto ridicolo. Però, diciamo, per adesso dobbiamo per forza cominciare anche un po' dall'ABC e quindi le cose più fondamentali. Oggi, in Europa, e in realtà nella maggior parte dei paesi del mondo, almeno numericamente, non ho fatto il calcolo della popolazione che ricade da un lato o dall'altro, ma diciamo, la maggior parte dei 190 erotti paesi che esistono oggi applica una regola secondo la quale il copyright si applica sulle opere nel momento stesso in cui vengono create. Quindi non c'è bisogno che si porti il proprio libro, il proprio brano musicale all'ufficio copyright per farlo timbrare affinché esso sia protetto dai diritti d'autore. E questa protezione, che per l'appunto è automatica, dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore stesso. Ovviamente potete già immaginare che si creano poi difficoltà legate al fatto che non tutte le opere sono individuali. Quelle che sono collettive non sembrano due coautori, ma hanno magari una troupe alle spalle, uso opposto un termine cinematografico, televisivo, e non è ovvio che per esempio il diritto del montatore sia srettanto importante quanto quello del regista, eccetera, eccetera. Di tutto questo non parliamo. Però ecco, la regola generale è che si contano 70 anni dalla morte dell'autore e poi il primo gennaio dopo il settentissimo anniversario le opere cadono in pubblico dominio. E questo già è quanto ci potrebbe bastare per dire che le opere di Wittgenstein, che è morto il 29 aprile del 51, sono entrate nel pubblico dominio in Europa il primo gennaio 2022, che è appunto l'occasione che ha dato, diciamo, al progetto di cui poi vi parlerò un po' di più nella seconda parte dell'intervento, è l'occasione che ha dato adito a questo progetto. Però vi potete immaginare benissimo che il progetto che appunto io e alcuni di queste persone portiamo avanti non è un'idea senza precedenti. Ogni volta che in un paese entrano nel pubblico dominio le opere di un certo autore, si assiste a una, non dico per forza, fioritura di edizioni nuove. Però capita sempre che un certo numero di nuove edizioni compaiano e ciò a volte appunto se da un lato banalmente rende più numeroso il nodo di persone qualsiasi che leggono quell'autore anche può comportare un, come dire, un'intensificarsi degli studi accademici e così via. Non so, qualche anno fa è entrato in pubblico dominio per esempio Orwell e secondo me si è visto che nelle librerie sono comparse due o tre edizioni nuove di un libro come 1984 che è un libro che vende sempre e che diciamo probabilmente per un editore è interessante mi tradurre non può saltare che per farci qualche soldo. Ecco, e di nuovo è chiaro che per esempio per un libro, per un autore una nuova traduzione è una cosa importante è una cosa che davvero sì è già una fioritura in sé perché dopo non per forza 70 anni o più ma fossero anche 50 o meno una nuova traduzione è quasi letteralmente una ventata di aria fresca su un autore che diciamo altrimenti in qualche misura potrebbe comunque essere visto come destinato a impolverarsi. Ora, di questo di nuovo un po' di più, un po' più tardi ci sono eccezioni e poi appunto lì cominciano anche le follie e le cose curiose alla legge che adesso vi ho un po' presentato come universale dei 70 anni perché ogni paese sostanzialmente ha le sue regole. Il copyright ha anche una storia interessantissima di questo, vi dico solamente quel minimo che potrebbe forse essere sufficiente a far bene voglia a qualcuno di approfondire per conto suo ma il copyright nasce nel diciamo il concetto moderno il copyright nasce all'inizio 700 in Inghilterra come evoluzione di una serie di normative di prassi che in realtà avevano a che fare più che altro con la censura e col monopolio di stato di alcuni testi. Il concetto esisteva in molti paesi da Venezia alla Francia in Inghilterra la regina Anna nel 1710 lo concretizza in quello che è un po' il primo statuto del copyright diciamo moderno in senso lato. L'altra diciamo piepra miliare imprescindibile invece è a fine ottocento la standardizzazione più o meno internazionale con la prima convenzione di Berna dico più o meno perché adesso stiamo per vedere che per esempio negli USA tutto è sempre stato diverso da come è stato altrove però ecco a quel punto l'esigenza che si era fatta pronunciata e che ha portato anche alla normativa ad adeguarsi era legata alla pirateria nel senso che pur essendo si è affermato il principio della protezione anche per molto tempo dopo la mostra dell'autore dei suoi diritti d'autore ciò non di meno erano protezioni strettamente confinate ai confini del paese dove quell'autore aveva stampato le sue opere e quindi capitava che che ne so Dickens venisse stampato in modo pirata in America e che questi editori pirata facessero barche di soldi con le sue opere e diciamo questo fu sempre più percepito come un problema fino appunto a generare una sorta di principio fortemente condiviso largamente condiviso tra i vari paesi per cui ogni paese firmatario della convenzione garantiva agli autori provenienti da tutti gli altri paesi firmatari diritti uguali a quelli che garantiva ai propri cittadini e questo appunto l'esempio di Dickens è paradigmatico ma veramente qualsiasi autore importante dell'ottocento in qualche modo soffriva di questo fenomeno soffriva anche in senso struttamente finanziario e quindi insomma questo è un po' il secondo capitolo di una storia che a parte tutto questo ha anche molti altri aspetti curiosi e interessanti dicevo che negli USA le cose sono sempre state molto diverse diciamo veramente in Europa oggi è sufficiente sapere quando è morto un autore per sapere se la sua opera è o non è in pubblico dominio pubblico dominio evidentemente non è forse così ovvio ma è ciò che accade a un'opera dopo la fine del copyright quindi se fin tanto che un'opera è sotto copyright non si può riprodurla e distribuirla se non con l'esplicito permesso dell'autore o del suo diciamo portavoce sia esso un erede o un editore o altro il che spesso accade solo dietro al pagamento di un compenso viceversa quando scade la protezione del copyright cioè tipicamente dopo 70 anni allora diventa possibile per tutti fare qualsiasi uso di un'opera senza dover chiedere permesso e senza dover pagare alcunché e basta tutto qui come se fosse poco rimangono in realtà vigenti quelli che si chiamano i diritti morali che in alcuni casi si spingono fino all'obbligazione di quantomeno citare l'autore e in generale hanno a che fare per esempio col fatto di non diciamo per esempio è possibile modificare le opere è possibile tagliarle è possibile mettere i baffi alla gioconda è possibile ritrodurre un testo e così via senza appunto avere il permesso e pagare gli diritti eccetera eccetera però ecco per esempio quello che non si può fare è come dire deformare il senso di un testo facendo sembrare che questa fosse l'intenzione dell'autore come dire si può anche parodiarlo ma bisogna rendere chiaro che è il proprio sacco e non quello dell'autore originale cose del genere però sono minuzie diciamo paragonate al rigore e anche all'impatto economico del copyright fin tanto che vige e cioè appunto fino a quei famosi 70 anni eccetera ci sono paesi nel mondo dove per esempio la protezione è di solo 50 anni ce ne sono alcuni dove è di 80 e alcuni dove è se non sbaglio in Messico addirittura di un secolo però parliamo insomma di un concetto che è sempre lo stesso e di una cifra quella degli anni che cambia poco in modo contingente gli USA invece dicevo hanno un principio diverso perché oggi quello che conta è per esempio la data di pubblicazione dell'opera e il copyright in linea di massima scade 95 anni dopo la data della pubblicazione di un'opera la legge è cambiata nel corso dei decenni in modi a volte retroattivi il che significa che le opere pubblicate in un certo lastro di tempo sono in pubblico dominio se rispettano la definizione che aveva allora il pubblico dominio e non oggi quindi giusto per dirne una che fa tutto sommato abbastanza strano ci sono opere degli anni 60 che sono effettivamente fuori dai diritti oggi per il semplice motivo che gli autori per scelta o per negligenza non misero il simbolino della C con intorno a un cerchio letto sulla pellicola o libro eccetera eccetera c'è un caso eclatante che è quello della notte dei morti viventi di Romero che consciamente in quanto pazzo indipendente geniale qual era volle che il suo film non fosse protetto dalle stesse regole degli altri regole standard di Hollywood e dell'industria insomma e quindi ecco questo già per esempio sebbene stiamo invenuto porta a pensare perché quel film è indubbiamente un film pazzesco originalissimo e groundbreaking come si direbbe nella lingua di Romero però forse parte della sua importanza come cult come pietra fondante di un genere deriva anche dal fatto che tutti hanno potuto riutilizzarlo o citarlo senza dover chiedere niente a nessuno e questo diciamo è un primo argomento che poi andrò a sviluppare quindi insomma quello che volevo far passare è che per via di queste revisioni successive della legge e della loro frequente natura retroattiva gli USA sono un paese in cui per l'appunto non è facile affatto capire se un'opera è o non è in pubblico dominio forse qualcuno di voi a livello anche qui aneddotico ha sentito nominare qualche cosa che io stesso adesso non nominerò se non a livello aneddotico ma nel 98 ci fu un'estensione del termine del copyright non ricordo da quanti anni a quanti anni purtroppo che andava sotto il nome ufficiale di copyright extension act ma che tutti chiamavano the mickey mouse act perché era talmente vicino alla scadenza dei diritti su Topolino che tutti ritennero ragionevolissimo supporre che l'unico scopo dei lobbisti che si interessano a questa cosa fosse quello di garantire altri non so vent'anni di rendita a Walt Disney grazie a Topolino benissimo un altro concetto importante che però ho già fatto passare è che ad aggiungere complessità c'è il fatto che il copyright si stratifica e cioè che se per esempio una statua greca è indubbiamente fuori diritti perché sono millenni che l'autore è morto comunque con quell'opera si possono fare cose alcune delle quali sono opere a loro volta e quelle opere tendenzialmente sono indipendenti dal loro soggetto in buona parte diciamo l'atto creativo dell'autore della fotografia dell'amica di Samotracia in quanto fotografo è diverso dall'atto creativo del suo scultore dello scultore della statua voglio dire e quindi la fotografia di un'opera tridimensionale che è in pubblico dominio non è essa stessa in pubblico dominio questo diciamo tutto sommato intuitivamente può avere senso una fotografia è un atto che richiede scelta in termini di angolazione luce focale tempo di esposizione quello che volete e le variabili sono talmente tante che la scelta dell'autore e del fotografo giustifica l'originalità necessaria a far sì che l'opera conti come sotto copyright non lo stesso vale per esempio per le opere bidimensionali nel senso che se uno fa una scansione di un testo stampato sia esso un disegno o una stampa o quello che volete ecco quel gesto è considerato generalmente talmente meccanico da non generare a sua volta un copyright quindi se per esempio voi andate al museo Van Gogh ad Amsterdam comprate la cartolina e sulla cartolina è scritto copyright e c'è sempre scritto è una diciamo prevaricazione del museo sostanzialmente perché le riproduzioni bidimensionali di opere bidimensionali sono non artistiche non creative benissimo questo mi interessa perché ovviamente quello che vogliamo dire che vogliamo andare a dire parlando ancora una volta più di testi scritti che di altri tipi di opere d'arte le traduzioni sono universalmente giudicate secondo me a ragione atti creativi che quindi generano un nuovo livello di copyright se Platone è evidentemente fuori diritti chiunque traduca Platone da nuovo da zero produce un'opera la traduzione italiana francese quello che volete che sarà invece protetta secondo i termini di ogni altra opera letteraria per esempio ecco di nuovo una questione dubbia potrebbe essere aperta con riferimento alle curatele nel caso di Wittkens in realtà è un problema urgente perché come sapete qui un po' ci avviciniamo finalmente a parlare di Wittkenstein l'unico libro di filosofia che le pubblicò in vita fu il Tractatus l'unico altro libro che pubblicò in vita fu un vocabolario per le scuole e poi pubblicò alcuni testi brevi articoli recensioni e così via tutto il resto pubblicato postumo passò attraverso una dose maggiore o minore di diciamo di editing di revisione curatela manipolazione in senso buono tra virgolette manipolazione come era necessaria per trasformare il tracquini in libri stampati e talvolta diciamo talmente significativa in termini di quantità e qualità da forse far pensare che basti a giustificare il fatto di considerare quelle opere come diciamo curate e non solo curate ma anche co-authored non mi viene il tratticipio passato in italiano da un da un'altra persona chiudo la parentesi ma poi ci ci torniamo mi piacerebbe diciamo completare l'esempio di Romero e cioè della notte di buon attiviventi con qualcosa che davvero è complementare e che è diciamo il lato negativo di quello stesso problema dicevo che un film può diventare super influente anche per il fatto di essere più disponibile più in fretta degli altri capita il contrario cioè qualche cosa può avere una forte influenza quando finalmente entra nel pubblico dominio e qui vorrei citare un paio di esempi un esempio del tra paradigmatico e poi farne qualcuno un po' più generico ma insomma quello che capita è che su internet per esempio ci sono tanti siti diciamo anche solo sull'internet di lingua italiana ci sono tanti siti che risalgono per la verità ai primordi di internet veramente prima del 2000 credo che forniscono servizi di consultazione gratuitamente e lo fanno grazie a fonti precisamente in pubblico dominio sono sostanzialmente hanno come base al di là ovviamente dell'interfaccia grafica dell'interfaccia web materiale antico e il caso di etimo.it appunto un grosso database di etimologie è interessante perché ha avuto delle conseguenze che adesso vado a raccontarvi la logica di base è semplicissima qualcuno nel 90 qualcosa si è accorto che mettendo online tutto il lezionario sebbene ciò volesse dire un certo quantitativo di lavoro si provano poi mettere le pubblicità nelle pagine la gente avrebbe trovato bene o male le etimologie che cercava e dato quel tot di centesimi per la visita e il sito è rimasto online per decenni credo che lo sia ancora e venne utilizzato sistematicamente per esempio da Wikipedia cioè nel 2005 2010 tutte le etimologie di Wikipedia bene o male venivano da etimo.it erano citate correttamente con una nota a piedi pagina che garantiva in qualche modo la fondatezza del fatto al di là dell'arbitrio del wikipediano qualsiasi che aveva scritto la voce e pareva che tutto andasse bene così poi dopo un po' si è cominciato ad accorgersi che fonti più recenti e più autorevoli nel senso di più recenti più scientifiche semplicemente per il fatto di essere passate attraverso altri 60 anni di peer review e accademia e quello che volete ebbene le etimologie di etimo.it erano sostanzialmente screditate e tre quarti delle etimologie di Wikipedia in italiano erano scorrette e questo è per esempio appunto un esempio paradigmatico del fatto che qualcuno trova un vocabolario etimologico in pubblico dominio quindi ha tutto il diritto di metterlo online la sua accessibilità esplode in paragone a quella di altri testi più recenti più autorevoli ma a protetere diritti e questo genera un fenomeno appunto negativo nella misura in cui il materiale di ricerca il materiale che in qualche modo ha a che fare non con le storie ma con raccontare fatti cronache eccetera eccetera insomma le enciclopedie i vocabolari eccetera sono meglio se sono recenti e la disponibilità ampia di materiale troppo vecchio a volte appunto ci vincola a informazioni incomplete errate o comunque meno buone di quello che vorremmo che fossero e di nuovo se ci pensate per le traduzioni vale un po' lo stesso cioè le traduzioni fuori diritti sono stampate di più sono accessibili di più sul web ma tante volte sono semplicemente peggio di quelle più recenti magari non neanche intrinsecamente ma peggio per gli lettori di oggi rispetto a quelle più antiche e quindi ormai fuori diritti adesso vado un po' a concludere questa prima parte dicendo che la dicotomia classica fra copyright tutti i diritti riservati e pubblico dominio nessun diritto più diservato è veramente molto rigida o se da una parte o se dall'altra e potremmo forse dire che davvero entrambe le cose sono estreme o se dire specialmente il copyright ma in ogni modo è proprio una dicotomia quello che è accaduto man mano che internet si nasceva e si sviluppava è stato che ci si è accorti che tante persone una volta rimossi i costi della creatività perché fare cose su internet non richiede per esempio di stamparle o disegnare con un computer non richiede materialmente tele e oli eccetera eccetera ebbene c'erano un sacco di persone che avevano la stessa voglia di creare che avevano sempre avuto gli umani prima di internet ma che l'avrebbero fatto comunque senza diciamo l'ambizione di raccoglierne un compenso economico o veramente al di là dell'ambizione senza nemmeno l'intenzione di dover chiedere diciamo una remunerazione per l'attività che facevano in sostanza appunto ci si è accorti del fatto che sviluppatori software gente che scriveva su wikipedia gente che faceva grafica o qualsiasi altra cosa era contenta di poter rendere disponibili online le sue opere in modo completamente gratuito e quello che veniva a mancare era semplicemente una piccola formula legale un pelo pensata da qualcuno che magari ne sapesse qualcosa che permetteva di fare esattamente questo distribuire gratuitamente il frutto del proprio ingegno avendo la garanzia che magari qualche vincolo venisse comunque rispettato che potesse essere l'attribuzione al nome della persona che aveva fatto il lavoro o il vincolo che ne so che se il codice software per esempio veniva rielaborato per sviluppare qualcosa di nuovo sulla sua base quell'esito non fosse venduto ma a sua volta distribuito gratuitamente oppure che da un testo letterario non venissero affatto derivate altre opere quindi tu lo puoi usare lo puoi distribuire lo puoi anche vendere metti caso ma non puoi cambiarlo perché insomma perché io voglio che così sia ecco sostanzialmente da questa esigenza dal suo riconoscimento e dal lavoro di un gruppo di legali competenti e appunto volenterosi è nato Creative Commons che è diciamo non l'unico senz'altro anche perché si applica meno al software che altre cose ma uno dei più importanti modi in cui è possibile distribuire gratuitamente le proprie opere nell'epoca di internet ricevendo magari appunto un'attribuzione ricevendo magari la garanzia che le proprie opere se non lo si vuole non verranno vendute e così via ma comunque sotto una forma di protezione legale e quindi per esempio quello che accade è che Wikipedia tutto il testo di Wikipedia ma anche le immagini per la verità sono distribuite con una licenza che si chiama Creative Commons attribuzione trattino condividi allo stesso modo che significa per l'appunto è possibile ridistribuire rivendere rielaborare tutto quanto gratis senza chiedere il permesso alla condizione di attribuire gli autori dell'opera originale e di insomma di mettere un credito e di ridistribuire eventuali opere derivate di nuovo traduzioni oppure rielaborazioni grafiche delle immagini secondo la medesima licenza questo è un po' il quadro mi rendo conto che sia stata probabilmente sia troppo lunga sia troppo breve un'introduzione un po' al concetto di copyright alle problematiche a esso collegate e diciamo al fatto che il copyright tradizionale ha dei problemi legati forse anche al più generale concetto di proprietà privata forse legate anche al concetto di successione e ovviamente eredità a esso collegato ma per lo più peraltro diciamo anche strettamente tecniche davvero è una fortuna a questo punto che sia possibile bypassare il copyright tradizionale se lo si vuole per quello che riguarda l'editoria ho detto veramente solo che c'è una misura entro la quale questioni di diritti influenzano anche le vicende editoriali e la fortuna delle opere di certi autori di tutti gli autori per la verità siamo pronti credo per passare a Wilkenstein però vi chiederai se avete delle domande o dei commenti o delle osservazioni qualsiasi ora come vi dicevo prima Wilkenstein ha lasciato una messe molto vasta di scritti pochissimo materiale pubblicato molte migliaia di pagine quello che si chiama il nachlas composte di appunti sia manoscritti sia dattilo scritti di cui un pochino in realtà la volta scusa abbiamo parlato a partire dalle copertine e dai loro colori e quando morì diciamo identificò un gruppo di persone i suoi allievi sostanzialmente a cui affidò esplicitamente per testamento diciamo il compito di mettere ordine in quello che aveva lasciato e pubblicare ciò che ritenevano valido degno di essere pubblicato essendo Wilkenstein Wilkenstein era bene o male tutto degno di essere pubblicato e la questione era soltanto che misura di intervento era necessaria affinché ciò che era degno risultasse anche accessibile al lettore qui dal punto di vista non del raggiungere il testo procurarsi il testo diciamo ma nel senso di riuscire a diciamo dare un senso a quello che dentro c'è scritto ora in alcuni casi il lavoro era relativamente semplice quindi per esempio una delle opere che Wilkenstein aveva maggiormente preparato e cioè le ricerche filosofiche richiesero solo un paio d'anni di tempo prima che fossero pronte per pubblicazione e quindi infatti nel 53 escono le ricerche filosofiche altre opere richiedono molto più tempo e questo in realtà davvero dipende solo in parte dal fatto che fosse necessario maggiore sforzo critico e filologico per manipolarle rispetto ad altre adesso mi piacerebbe fare un esempio che è un po' nerd di Wittgenstein però a me sta a cuore perché è interessante e anche importante insomma per la ricezione di Wittgenstein c'è un testo breve bellissimo che si chiama conferenza sull'etica in inglese e che è per appunto il testo di una conferenza che Wilkenstein intende mi pare nel 30 o nel 31 è un testo diciamo molto breve già pronto sostanzialmente anche se ce ne sono due o tre versioni per pubblicazione che uscì molto tardi e diciamo che secondo me quantomeno dovrebbe accompagnare sempre il factatus sostanzialmente è un testo affascinante nel quale Wittgenstein parla del fatto che il silenzio con cui si conclude il factatus non è un modo di scrollare le spalle e dire che tutto ciò che è accaduto il silenzio non è importante non è cioè come se Wittgenstein dicesse c'è la scienza che è ciò che si può dire e va detto e poi c'è il resto che non è importante non è degno del nostro interesse e va taciuto al contrario il silenzio di cui si parla nel factatus ciò di cui non si può parlare si deve tacere è lì per proteggere le cose importanti dal chiacchiericcio volgare che le avvilirebbe se ne parlassimo e diciamo dal chiacchiericcio volgare con cui le avviliamo ogni volta che ne parliamo cosa che facciamo fin troppo spesso questa è una distinzione diciamo che separa due interpretazioni del primo Wittgenstein diametralmente opposte e diciamo che vabbè questo è quello che dice ognuno di quelli che sostengono un'interpretazione io ritengo che quella che vi ho presentato come convincente sia infinitamente più convincente dell'altra gli altri sostengono ovviamente il contrario però credo che davvero se la conferenza sull'etica fosse diventata disponibile entro il stesso passo di tempo che ha separato il trattato stesso dalla conferenza sull'etica stessa in forma parlata ebbene ci saremmo risparmiati un sacco di cattive letture del primo capolavoro di Wittgenstein questo può essere vero può essere falso però è di nuovo un ottimo esempio credo di come fatti del tutto contingenti legati alla disponibilità editoriale di un libro hanno poi un impatto sostanziale sulla ricezione e la interpretazione filosofica di un autore non facile come per esempio Wittgenstein ora detto questo una conclusione che si può trarre in modo forse fin troppo approssimativo e generico è che da un certo punto di vista la disponibilità di un testo è sempre un valore è un valore intrinseco e quindi mi avrebbe da dire insomma oserei affermare che è sempre meglio che il più possibile sia il più possibile disponibile perché quantomeno le scelte che poi vengono fatte sono veramente scelte e non pure contingenze e diciamo scelte forzate che evidentemente non sono scelte da qui veramente mi viene voglia un po' di divagare perché mi rendo conto che gli aspetti editoriali e appunto legali anche il copyright sono meno interessanti di quelli filosofici di Wittgenstein però a questo concetto che la disponibilità sia un valore intrinseco si collega anche banalmente un problema di sicurezza e cioè la garanzia che un libro sopravviverà non è il livello di protezione a cui è sottoposto in termini di casseforti o vetri di proiettile è il numero di copie che ne circolano parlo del libro certo non della copia quindi del libro in senso astratto e non del codice miniato però se tutti abbiamo in mente il rogo della biblioteca di Alessandria forse non tutti abbiamo in mente il rogo del cavò della Fox nel 37 qualcuno ha sentito parlare di questa storia? no qualcuno annuisce ebbene accadde che nel 37 937 1937 scusatemi cerco di sparmare sulle sillabe scopiò un incendio nel posto una sorta di volt un cavò nel quale la Fox la casa cinematografica conservava la maggior parte delle sue pellicole ora della maggior parte delle sue pellicole c'era una copia che era conservata nel volt antiproiettile finché volete della Fox fermo restando che la celluloide è una delle cose più infiammabili che ci siano nel 37 in un singolo rogo andarono perduti adesso non saprei dire se ci teniamo migliaia ma contando anche quanto piccola era allora l'industria in paragone a oggi una frazione molto significativa di tutti i film che esistevano all'epoca e ci sono un sacco di per esempio attori o autori cinematografici di cui oggi si conosce un film e gli altri 6 10 15 sono lost films film perduti ora difficile pensare lo stesso oggi ma difficile perché la diffusione delle opere grazie a internet è incomparabilmente maggiore ora non solo forse grazie a internet è vero che i dvd sono meno infiammabili della celluloide però penso che capiate il punto dove voglio arrivare in sostanza tornando a una questione un pelo meno concreta e un pelo più astratta quelli di noi che credono che Wittgenstein abbia qualcosa da dirci e molto da dirci vogliono che sia facile leggerlo in estrema sintesi facile leggerlo vuol dire appunto che sia reperibile aneddoto scusatemi ma non ce la posso fare quando facevo il secondo anno il terzo anno di filosofia in statale qui a Milano a un certo punto un professore di Robbenedica mise in programma le cerche filosofiche e non c'erano le cerche filosofiche cioè si andava in libreria ed era fuori di stampa aspettammo un mese e arrivò però questa cosa all'epoca mi fece una giusta impressione ora quelli di noi che ritengono che vittime che se ne abbia qualcosa da dire vogliono che possa dirlo in sostanza e la sua accessibilità appunto davvero ha a che fare anche con cose così materiali così concrete come il fatto di andare in libreria e trovarlo veramente però di nuovo perché in libreria e non anche in quella grande meravigliosa immateriale libreria che è internet e se nella tua lingua perché non anche in altre due quattro o dieci lingue ora qui arriviamo un po' a come è nato il progetto di cui alla fine volevo parlarvi sostanzialmente all'università appunto avendo interessi come tutti i vari ma uno un po' più forza degli altri mi sono messo a un certo punto a tradurre il tractatus per ragioni di studio sostanzialmente e naturalmente l'idea all'epoca era quella di preparare quella che poi sarebbe stata una pubblicazione ognuno di quelli che vogliono magari fare il dottorato eccetera sanno quanto è importante prepararsi delle cartucce da spendere nel mercato delle pubblicazioni e mi pareva che questa fosse una buona idea poi la mia vicenda accademica è deragliata nel senso che non ho mai fatto il dottorato e il libro sarebbe rimasto chissà magari in un cassetto o magari su un sito personale destinato a non essere letto da nessuno fino a quando mi sono accorto che in realtà eravamo molto più vicini a quello che pensavo al momento in cui tutte le opere di Wittgenstein e non solo la Tractatus sarebbero entrate in pubblico dominio appunto parliamo del 2017 e diciamo interessandomi anche allora di Wikipedia di Creative Commons eccetera ho realizzato abbastanza in fretta che il 22 era dietro l'angolo e un'altra cosa interessante legata a Wittgenstein è che lui stesso scrisse opere in tedesco soprattutto ma anche in inglese quindi per esempio testi che nascevano bene o male come appunti per le lezioni il Blue e il Brown Book di cui parliamo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa erano in inglese sono in inglese la conferenza sull'etica che vi ho detto prima era in inglese anche se diciamo come dimensioni non è paragonabile agli altri ma come importanza vi dicevo forse anche sì era in inglese perché era pensata per essere pronunciata a Cambridge davanti alla società degli apostoli quindi diciamo Wittgenstein stesso era un autore in qualche modo multilingue c'è una vicenda curiosa legata ancora al Tractatus e cioè questa che era un libro per certi versi impubblicabile chi l'ha sfogliato sa quanto sono ostiche le proposizioni quanto è fuori di perplessità lo stile così autoritario per certi versi ma anche così oscuro oltretutto è un libro troppo lungo per essere un articolo o un saggio che fa parte di una raccolta o di una rivista ma troppo breve per essere un volume a sé stante in sostanza Wittgenstein penò molto per riuscire a farlo pubblicare dal 18 sostanzialmente 19 appena rientrò in inghilterra al 21 si ruppe la testa su questo unico scopo della sua vita far pubblicare il libro che dimostrava che la filosofia non era più necessaria e così via quando finalmente ci riuscì fu sostanzialmente perché Russell che era già stato il suo mentore in molti sensi gli dite una mano significativa scrivendo introduzione al libro ottenendo che venisse tradotto in inglese e pubblicato quindi in inghilterra in inghilterra diciamo appunto in un ambiente in cui Russell era influente e si riuscì a farlo pubblicare il traduttore di questa prima versione era un giovane e brillantissimo studente di matematica e filosofia Frank Plumpton Ramsey che purtroppo morì molto giovane pochi anni più tardi creando diciamo a livello puramente legale quindi con tutto il cismo che ci serve una situazione paradossale ma diciamo di nuovo cinicamente vantaggiosa per la ricezione di Wittgenstein nel futuro e cioè questa diciamo prima degli sfatti del copyright quando si fa una traduzione quello che accade solitamente è che il traduttore anche se non a partire dalla generazione successiva è comunque più giovane dell'autore non è una legge universale ma è quello che di fatto capita più delle volte e quindi quello che capita più delle volte è che se io ho un classico francese del tardo ottocento in cui l'autore magari è morto negli anni venti del novecento e quindi l'originale è in pubblico dominio il traduttore magari è vissuto fino al 2005 e quindi la traduzione sarà diciamo protetta dal diritto d'autore fino a eccetera eccetera ora in questo caso lo strato ulteriore non sussiste perché sostanzialmente se il traduttore è morto prima dell'autore una volta che è in pubblico dominio l'originale lo è già anche la traduzione e quindi non appena diciamo escono escono i diritti il tractatus anche questa prima traduzione inglese che peraltro è ottima e ha il vantaggio rispetto ai successivi di essere stata diciamo direttamente revisionata da Wittgenstein è essa stessa disponibile e quindi di nuovo giochi di come casi fortunati o sfortunati per Ramsey in questo caso portano un'opera a essere più accessibile ora con tutta l'importanza che il tedesco ha nella filosofia di tutte le epoche no non di tutte ma delle epoche recenti è ovvio che un libro in inglese è più universalmente accessibile e quindi ecco l'idea che mi venne era quella di diciamo provare a pensare a una biblioteca di Wittgenstein online perché le sue opere sarebbero entrate presto in pubblico dominio e una biblioteca multilingua perché comunque avevamo già materiale in inglese e in tedesco non solo già di Wittgenstein in inglese e in tedesco ma anche una traduzione già disponibile quella appunto di Ramsey per quello che può valere in paragone la mia in italiano e allora perché non mettercene dentro tutte le altre tutte le altre lingue potenzialmente nella misura in cui ovviamente si riesce a raccogliere materiale per giustificare appunto la loro presenza sul sito ora diciamo la cosa è partita molto insordina anche molto presto perché appunto tutto questo rimucionare lato mio risale al tardo 2020 però un po' alla volta ho scritto a dei professori giù per il mondo gente che magari aveva tradotto un'opera breve di Wittgenstein le osservazioni sul ramo d'oro di Fraser di cui ha parlato Federico durante il primo incontro in portoghese le aveva messe sulla sua pagina personale nel sito accademico e lì erano rimaste era un pdf fatto anche bene dal punto di vista di costruttamente tipografico però un pdf e allora io gli ho scritto dicendogli ma se noi lo dato che comunque è online gratis se noi lo riutilizzassimo timbrandolo ufficialmente con una licenza creative commons che quindi da certi punti sta anche garantisce l'autore secondo certi appunto criteri di condivisione del testo stesso e ne facessimo una pagina html bella quanto il pdf ma che per esempio si può leggere anche su mobile che per esempio supporta gli screen reader e quindi può essere anche diciamo accessibile nel senso più tecnico di leggibile tra virgolette anche da un cieco e così via questo professore che si chiama Almeida rispose in fretta e in modo entusiastico e quindi già c'era un testo in portoghese poi le cose si sono evolute in fretta e non vi faccio certamente la cronaca minuto per minuto però diciamo specialmente dopo che nel 2022 abbiamo pubblicato il blocco degli originali e delle prime traduzioni tante persone si sono fatte vive e si sono offerte volontarie per portare avanti questa idea di rendere più disponibili i testi in un formato realmente comodo e utilizzabile ma anche creando di nuovi abbiamo avuto la fortuna di poter diciamo abbiamo ottenuto dei fondi anche grazie alla collaborazione istituzionale con la tega di carta che è un editore vero e proprio e quindi c'è adesso possibile diciamo aprire porta che altrimenti come progetto web non avremmo potuto aprire affatto e quindi per esempio abbiamo ricevuto fondi dall'unista statale che in realtà non ha ancora erogato perché la traduzione è ancora in corso ma siamo nei tempi altri da Wikimedia Italia che è sostanzialmente l'ente che nel mondo reale coordina le attività legate al mondo wiki su questo devo soffermarmi un secondo solo per dire che chi scrive su Wikipedia sono tutti e solo volontari senza affidiazioni però poi tutte queste persone da un lato hanno magari piacere di donare dei soldi per mantenere i server eccetera eccetera hanno magari piacere di fare insieme una gita giuro questo suona pazzesco ma è vero hanno piacere di fare insieme una gita al museo guidata alla fine della quale si mettono intorno a un tavolo e si mettono a scrivere le voci sulle opere che c'erano nel museo e per fare tutto questo esiste un'istituzione veramente degna che è Wikimedia Italia e che appunto usa il suo denaro anche per promuovere progetti di cultura libera al di fuori dei progetti Wikimedia in senso stretto e quindi Wikipedia e i progetti fratelli dunque insomma veramente in due parole questa è la storia del progetto vado un po' alla volta a concludere diciamo riassumendo due o tre dei criteri che animano il progetto stesso dei quali a questo punto forse non vi sorprenderete perché nascono davvero proprio da questa serie di considerazioni che vi ho esposto sul rapporto che c'è fra il volere che un autore sia reperibile per tutti nel modo anche qualitativamente migliore possibile e il fatto che ciò è fortemente diciamo determinato da questioni puramente pratiche come il copyright ma anche tutto sommato se volete i supporti fisici carta contro schermo eccetera eccetera e quindi diciamo una prima idea è quella di limitarsi ai testi pubblicati in formato libro perché ancora una volta come dicevo prima c'è una differenza fra il Wittgenstein grezzo uscito dalla sua stessa penna o dalla macchina da scrivere di un dattilografo eccetera e il Wittgenstein pubblicato c'è un sito emerito davvero che è il sito dei Wittgenstein Archives a Bergen in Norvegia che diciamo da molti anni da credo diciamo esiste da i Wittgenstein Archives esistono da parecchio tempo dal 2016 è online una versione del NACLAS cioè di tutto Wittgenstein anche se ovviamente è in evoluzione costante perché c'è molto lavoro dietro e perché richiede anche spesso di essere manutenuta in sostanza grazie al lavoro e alle scelte anche lungimiranti e generose degli archivi Bergen il NACLAS e quindi di nuovo il Wittgenstein grezzo è già da molti anni disponibile online e questo davvero rappresenta uno strumento straordinario per i ricercatori e che francamente già di suo rende Wittgenstein molto più accessibile di tantissimi altri filosofi recenti nel senso che in realtà tutto canto online o tutto unice online ci sono anche loro però sono autori morti 150 50 anni prima di Wittgenstein e quindi la differenza insomma è importante tutto sommato però è vero anche che questa edizione è da un lato davvero solo il Wittgenstein alla rinfusa oltre che abbastanza grezzo come anche formattazione e tutto che davvero è uscito dalla penna dell'autore in sé per sé un'altra cosa è pubblicare libri con un capo e una coda anche se dirlo così è veramente orribile che una persona potrebbe leggere online oppure sul proprio ebook reader o stampare nel formato che preferisce secondo gli stessi criteri secondo i quali si andrebbe in libreria e si direbbe avete per caso una copia delle ricerche filosofiche quindi diciamo qui in realtà la differenza è essenzialmente una differenza di target potremmo dire nel senso che complementarmente allo strumento dei ricercatori ci piacerebbe che ci fosse anche qualcosa che risponde alle esigenze del pubblico generale o quantomeno di quella sottoparte del pubblico generale che legge Wittgenstein però davvero gli studenti prenderne una e così via questo per la verità porta con sé un problema e cioè che tra le scelte che furono fatte nella fase di editing di Wittgenstein dai suoi curatori editoriali testamentari non tutte erano interamente ovvie e forse alcune erano anche un po' meno che condivisibili ora naturalmente riproducendo opere che sono state soggette a editing 50 60 anni fa si perpetuano scelte la maggior parte davvero credo buone ma forse non tutte e si ricasca nella stessa questione che vi dicevo prima cioè se qui l'obiettivo non è quello di stare addosso al Wittgenstein letterale perché allora rifaremmo il lavoro degli archivi Bergen ma quello di fornire opere diciamo già preparate per la lettura quelle che diciamo le nostre vorrebbero essere quello che in testo si chiama lese ausgaben le visioni di lettura non critiche e non annotate eccetera eccetera ebbene c'è una piccola contraddizione ora qui mi rendo conto e ci tengo che si capisca che il progetto sta ancora definendo le sue politiche editoriali in buona parte però resta il fatto tutto sommato che è probabilmente di nuovo meglio avere di più e più facilmente accessibile anziché di meno e meno facilmente accessibile perché ciò rende facile fare di meglio e non più difficile cioè di nuovo fare la propria edizione per esempio proprio delle osservazioni su Fraser che sono uno dei testi la cui prima revisione critica è la più discutibile è considerata la più discutibile ebbene fare la propria edizione nuova critica in un modo migliore è più facile se sul web ci sono sia il testo grezzo sia la prima edizione critica e quindi diciamo tutto si riduce ad un problema di trasparenza legato al fatto di rendere consapevole il lettore che tutto ciò che è stato soggetto a editing è stato per l'appunto soggetto a editing c'è poi ovviamente la questione delle traduzioni cioè il nostro obiettivo è quello di pubblicare i testi ma non solo gli originali anche in produzione proprio con l'idea che ciò migliora la possibilità di tutti di arrivare a Wittgenstein e questo in molti sensi da un lato per esempio le traduzioni italiane che pure credo siano ottime in alcuni casi cominciano a mostrare gli anni allora è forse ragionevole davvero che come si dice a volte ogni generazione abbia la sua traduzione in un classico quella del Tractatus era per esempio in ritardo e credo che il fatto che adesso ci sia invece sia una buona cosa in alcuni casi stiamo pubblicando traduzioni in lingue nelle quali Wittgenstein non era stato ancora mai tradotto per esempio anche l'arabo ed è evidente che questo a sua volta porta vantaggi in termini di ripetibilità e accessibilità dei testi qui anche c'è un problema e cioè quello dell'autorevolezza sebbene abbiamo alle spalle un'infrastruttura che è anche una cassa editrice non siamo noi stessi una cassa editrice e quindi diciamo c'è tutta una serie di difficoltà legate alla scelta dei traduttori ai principi di divisione eccetera eccetera per la verità non si vuole imitare i principi di peer review tipici delle riviste accademiche perché ciò non è quello che fanno le case editrici però evidentemente c'è un'intera problematica legata anche a questo e un'ultima cosa che vorrei dire diciamo per completare un po' il quadro delle ragioni per cui tutto questo è stato fatto e spero verrà fatto ancora il meglio possibile il più possibile è che la mera forma tecnica del sito web ha anche degli vantaggi oddio non che non abbia degli svantaggi quindi per esempio il fatto che il libro cartaceo si possa sottolineare è qualcosa che su un computer comunque non è lo stesso io credo io faccio fatica personalmente a studiare su uno schermo però ecco per esempio stampare con una stampante le pagine del sito web non è più impattante a livello ambientale che comprare un libro di carta quindi per esempio qual è un'opzione e poi di nuovo c'è la questione dell'accessibilità nel senso più tecnico legato alle disabilità tale quindi per cui i testi web sono ascoltabili dai non vedenti dagli provvedenti tramite sistemi automatici di screen reader ma anche il nostro sito già ospita e mi auguro che ospitare sempre di più vede propri audiolibri nei quali la voce umana insomma legge il testo stesso c'è poi una questione di connessione di interconnessione tale per cui ogni testo è linkato al suo testo originale in modo tale per cui è quasi sempre come avere l'edizione con testo a fronte e in alcuni casi in realtà i testi questa è una cosa su cui lavoreremo di più ma contengono rimandi anche a ciò che Wittgenstein cita e quindi ancora una volta l'edizione nostra delle note su Fraser delle osservazioni su Fraser quantomeno riporta i passaggi di Fraser a cui Wittgenstein fa esplicito riferimento c'è una questione fondamentale che è quella della ricercabilità cioè avere un corpus nel quale si può ricercare con un motore di ricerca è una roba grossa se si pensa insomma all'esperienza che tutti forse abbiamo già di dire aspetta quella citazione lì dove era no e poi di nuovo abbiamo tutto un panorama di strumenti tramite i quali si possono leggere effettivamente i testi che vanno dal formato web al pdf all'epub o ipub che sostanzialmente è quello che usiamo oddio se si vuole anche sul cellulare ma se no soprattutto su quegli schermi a inchiostro elettronico tra virgolette che diciamo sono un po' più comodi degli altri forse perché ti fanno leggermente meno bruciare gli occhi per dirla così e poi si va su cose più nerd e più virgensteiniane però per esempio c'è tutta una tradizione dei sostenitori della lettura del tractatus non in modo lineare tutte 526 le proposizioni come se fossero altrettanti pioli di una scala che alla fine ovviamente porta a essere buttata via bensì come l'albero che in qualche modo la numerazione stessa delle proposizioni porta a pensare che esse siano e quindi la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 poi le stuproduzioni della 1 poi della 2 e così via ecco questa lettura non lineare ma ad albero come la si chiama nella quale in sostanza si ha una percezione più immediata di quali siano le cose importanti che Wilkenstein vuole dire e quali invece un po' i dettagli che va bene leggere solo in un secondo momento questa cosa qui si fa molto più facilmente con un sito web che con un libro cartaceo nonostante sia stata fatta comunque anche con un libro cartaceo e per esempio oggi stesso per festeggiare il compleanno di Wilkenstein come vi dicevo abbiamo pubblicato sul nostro sito la versione ad albero nella quale si possono espandere le proposizioni in un modo tale che rende chiare quali sono le genitrici e quali sono le figlie nelle quattro lingue nelle quali il Tractatus è disponibile e che io sappia in spagnolo è la prima edizione ad albero del Tractatus dico l'ultima perché è una sciocchezza ma mi fa ridere c'è un caso in cui Wilkenstein in Zettel che è una raccolta veramente un po' alla rinfusa di note e quindi uno di quei testi nei quali è particolarmente problematico e interessante il lavoro dei curatori ebbene Wilkenstein a un certo punto cita il Tesseract non usa questa parola mi pare ma insomma il cubo a quattro dimensioni il cubo che ha come ogni lato un altro cubo in buona sostanza bene insomma lui lo cita e adesso non ricordo i dettagli ma mi pare che metta un due punti come se si immaginasse di aggiungere poi un'illustrazione cosa che non fa nelle edizioni cartacee il curatore aggiunge un'illustrazione bidimensionale del Tesseract che diciamo ha l'aspetto di una specie di sovrapposizione un po' incassinata di rombi ora visto che comunque il fatto di aggiungere l'illustrazione è una scelta dell'editore o del curatore e di quale immagine aggiungere è una scelta per l'appunto dell'editore del curatore noi abbiamo deciso di mettere non un'immagine in senso stretto ma una gif animata di un Tesseract che dà un pelo di più il senso di che cosa sia questa cosa qua ha tre dimensioni non quattro ma è già qualcosa di nuovo c'è uno spettro di cose interessanti da quelle seriamente editoriali alla gadgettistica del formato web però quello che insomma mi piace e su cui voglio concludere è il concetto che di nuovo l'accessibilità di un autore e la sua attualità sono interconnesse anche sulla base di questioni strettamente materiali dal copyright come questione legale alla tecnologia e di nuovo non come se la stampa non fosse una tecnologia perché se pensiamo agli anni 40 del 400 è tutto molto chiaro quindi sostanzialmente se nel primo incontro due settimane fa cercavo di dimostrare che Wittgenstein non è attuale perché è utile e importante leggerlo nel contesto storico e storico-filosofico se volete in cui siamo questa sera ho voluto dire in modo sostanza che Wittgenstein può essere reso più attuale rendendolo più accessibile e questo è un po' quello che vogliamo fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti